Ragazzi, benvenuti nel video definitivo dove vi mostrerò i momenti epici di The My Channel C'è una serie in cui vi mostrerò molti dei video e premierò dal primo Epic Moments Ma un sacco di momenti epici Prima partiamo con quello di... 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 Beh, prova a non ridere con gli Epic Fails nei videogames La seconda puntata, vi faccio vedere Aspetta, non vedrete Oh no! E' già finito il video ma era un po' corto Mentre qua... Questo è stato registrato a 15% del mio tablet Questo era proprio divertente Non faceva ridere Ma erano cascati tutte e due come dei polli Come vedrete non rivedrete Bene, ma comunque... Passiamo alle prossime clip Metterò pure clip che non sono dei miei video Ma sono semplicemente clip prese da altri video Tipo... Tipo a questo punto prendiamo... Tipo... Tipo... Questa... Questa clip di Fave dei... Dieci obiettivi più imbarazzanti nei videogames Vi faccio vedere FBi Open Up! Poi ne abbiamo un'altra di Command & Conquer Sempre dello stesso video E guardate... WatchMojo Risate da non finire A volte mi fanno ridere Alcuni video Altri no Comunque... Passiamo ai prossimi video Tipo quello di Mindshow Ho provato a ballare Questo è il risultato Mi faccio vedere Aspetta... Non... Se volete ditemi dei consigli per questo gioco Ci sono due gatti e un mens Che balla Che cantano Io ci sto E io il buon Fabio... Sono qua... Che disastro... Che disastro... Che disastro... Che lo dirà il capo... Aaaaaaah... Ehm... Ok c'è stata la pubblicità visto che c'era Comunque passiamo alla prossima clip divertente C'è questa clip che non mi è funzionata Ma... Comparirà in un futuro video Comunque... Qui ci abbiamo... E vi faccio vedere là in un'altra clip dello stesso gioco Adesso mi ne vado Aspetta... No... Voglio anche un ale pieno di donne grandi Adesso mi ne vado Aveva detto supercalifragili stiloso E voleva passare ma non ha finito Guarda... Sono ricco Questa è divertentissima Ah... Questa è di Yotobi Mi ricordo E poi sembrano i combattimenti dei film di Batman Quello con Adam West Non so se avete presente Certi giorni non riesce a liberarti di una bomba L'azione con... Questo è uno... E' il momento in cui mi ero ispirato all'ultimo video Che c'era proprio un Batman che faceva... Se volete ve lo faccio vedere Facciamo una intro così Bella a tutti ragazzi Bella a tutti ragazzi Bella a tutti ragazzi Epic moment nella vita reale Comunque non per... Bando le chance E continuiamo Allora... Per prima cosa Dobbiamo scegliere qualcosa Un video divertente Non i video dei mostri dell'armadio Possiamo vedere... Vi faccio vedere la saga completa Solamente a 50.000 Leak Questo... Questo è di Mastercast Era... Pokémon Hello vs Sibaritic Version Che in realtà è la parodia di Pokémon Questo sembra un po' un vedete Vi faccio vedere la mia vita Ehm... Questo non ve lo posso mostrare Perché è solamente una clip presa di un film La volevo mandare su Instagram Però... Poi non l'ho potuta mandare Ehm... Però... Però volete sapere da dove ho iniziato a prendere spunto a queste clip? Questa... Questa... Sì... È proprio quella... Non avete ancora visto niente? Nick Radogna c'è qua con le sue clip... Guarda... Guardate... Riagisci alla donna con i piercing E alla fine Pensa solamente a quanti c'è lei ha Wow... Questo sta proprio... Aspettate che adesso vi faccio vedere Cioè... Oh no! Cioè... Io sto vedendo... Sto... Sto diventando pazzo a far vedere sta scena Comunque... Il mio gameplay a Lego Marvel Avengers Ho registrato queste nuove... Padre... Uuu... Una carcassa in testa! Non vuoi infastidire l'uomo con quella carcassa... Questo è l'episodio 2 Esatto... Invece no! Una riscaldata di... Mancato! Dovevamo fare in 3 secondi quella cosa... E ecco... Ci sono... Uuu... Che bella notizia! Dalla libertà! Quindi dovremmo fare la guerra per altri 5.000 anni... Non basta... Sono troppi... Dai... Comandante esercito... Aiutami tu! Non è molto forte rispetto... Eh eh eh... Eh eh... Questo è un po' una presa... Qualquanto squilibrata... Ma però adesso passiamo a due video che... Sono divertenti per il mio commento... Per prima cosa partiamo dal video... Dal video in cui ho detto... Qual è la versione più veloce dell'universo di Iron Man? E... Questo è il risultato... Qual è la versione più veloce del mondo di Iron Man? La versione... Niente... Non mi ricordo... Prima di rivedere quell'altro commento... Avevo un momento epico su Fortnite... Una kill epica! Che mi poteva far entrare nella storia... Come l'unico bambino che ha fatto la kill di uno... Non vedete bene perché... Era... Perché l'avevo fatto di giorno... Quindi il sole... Ma comunque... Beh ve le potete trovare... Poi passiamo a queste due... Non ho messo l'ultimo epic moment... Dunque... Nei miei commenti trovate... Non mi scende... Non mi scende... Non mi scende... Aiuto... Ragazzi... A... Ahahah... Peter Molinu... Non ci crede nemmeno... Quindi passiamo... A... A... Catapulta time... Oh... Finalmente... Abbiamo un po' di catapulta... Ops... No... No... Comunque... Poi... Passiamo a... Scribile... Nautice of Dawn... Il gameplay... E... Allora... Vedrete... Vedete... Ho commentato così... Che cosa hai scelto? Lo togliamo... Che cosa hai togliato? Ma dai... Si devono prendere cazzotti tipo Super Smash Bros... Cazzotti tipo Super Smash Bros... Un attimo... Posso giocare pure... Un attimo... Sempre Zelda... Legend of Zelda... Revenge of the Two Sportsnet... Revenge of the Two Sportsnet... Comunque... Sono finiti i modi... Avevo un altro video... Ovvero... È bastato... Ciao... Solitri... Donde...